Emergenza sicurezza nella zona di Via Aldomoro a Pescara, dove tra l'altro nei giorni scorsi erano state anche date alle fiamme tre macchine. A far sei portavoce delle richieste dei residenti è il consigliere comunale civico Domenico Pettinari. Delinquenza diffusa, spaccio di droga e poi anche il fenomeno delle occupazioni abusive e di alloggi sono le criticità esposte da Pettinari, che poi fa delle richieste precise all'amministrazione comunale. Qui serve subito immediatamente una sorta di postazione fissa di polizia, comunque pattuglioni misti tra polizia, carabinieri ma anche con l'ausilio dell'operazione strade sicure dell'esercito che può coaudivare e fare in modo di mettere su strada pattuglioni misti anche a piedi che possono garantire la tranquillità del quartiere e poi iniziare immediatamente a fare un censimento di tutte le case popolari. Qui ci sono tanti occupanti abusivi, non solo qui in altre parti, anche di questo quartiere, di questa via. Gli occupanti abusivi vanno sfrattati, vanno allontanati per liberare le case e poterle assegnare ai tanti cittadini onesti. Abbiamo in questo momento 700 domande. Voi immaginate 700 famiglie che chiedono un alloggio popolare e non possono avere un alloggio popolare nella città di Pescara perché gli alloggi popolari, tanti, la stragrande maggioranza, sono occupati da abusivi che delinquono anche e purtroppo ci sono ancora 100 abitazioni vuote, non assegnate. Voi immaginate se si liberassero quelle abitazioni e si assegnassero quelle abitazioni vuote potremmo scorrere la graduatoria e dare la casa quasi a tutti quanti. Un altro tema toccato da Domenico Pettinari, la necessità che si intervenga contro il degrado delle strutture mettendo in campo interventi di manutenzione e ricostruzione degli alloggi. Chiediamo con forza anche di ristrutturare perché qui la faticenza, la sporcissia diffusa, ci sono discariche a cielo aperto ecco in una situazione veramente raccapricciante. Ora il centro-destra governa nazione, comune e regione non può più dire che loro non c'entrano o che si voltano dall'altra parte. Qui bisogna intervenire immediatamente con azioni di forza.